Vai, televisione vai! Si si Diventerai famoso un giorno Vuoi diventare famoso? Di dove sei, di Bari? Siamo oggi In Russia Giapponesi? In Albania In Albania In Albania In Albania In Albania In Albania Dove? Dove? Dove si sta? Non c'è la Barenna No, però la casa è capito In Bari, in Bari 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 Quanto hai bevuto stasera? Ho bevuto due o tre litri Giorno Giorno Giovanni L'Ambrusco L'Ambrusco Pazzo Padre Fer Pazzo 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 A po' Ciao Saluta Saluta Saluto Saluto Ma cosa è proprio a me? Di ciao Fai ciao Paloo Super Pazzo 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 Pazzo